I unboxing qualificanti Eccoci cari amici attenzione amici calavinchici Allora fermi tutti sicuramente da dove viene questo pacco Amico show grazie John come sempre Mi ricordo che cos'è questo pacco Ha detto che però io non c'entro vero? Non dovrebbe centrare non lo so perché c'entro però Io incrocio le dita invece spero No 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 mi sta di no Sembra un po' più piccolo rispetto a quello che attendo io però va bene Allora questo è un po' leggero vero questo pacco Potrebbe essere un pacco Andiamo a vedere Una mezza A parte che la scatola ha subito eh Aia Speriamo che E' stata schiacciolata Si nonostante I paracolpi ci sono Ci sono ma non ha un paracolpito il merito Aia Non mi dia queste notizie così Così il poco Morto ho subito Porca miseria Scusa Fa vedere qui? Ecco esatto Riprenda che nel caso in cui Dobbiamo testimoniare Posso dire una cosa? Eh Spero che non sia il mio Spero che non sia il mio Lei sperava fosse il suo adesso Ma adesso no Aia Cazzo È stato trattato malino eh Non so non credo sia colpa di Dalla sigla? Non si capisce ancora che cosa è Non si capisce no E' leggero Ma sì Ma sì Allora Guardate Il box ha subito No però dentro Sicuramente c'era una scatola Più piccola Per quello piace molto Stiamo a vedere No se questo è il brown box Dell'oggetto originale Mmm Qui mi dispiace dirlo Ma le poste hanno accannato Hanno fatto Mmm Aia No diciamo che anche la scatola interna Non è che abbia ricevuto Un grande Non ha goduto Però sa che non mi ricordo F12 Che cazzo c'è scritto? Ho letto un mezzo F12 Aia Ah che non si ha le macchinine? No Lei sta aspettando Sì 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 Anche la macchinina Questa è arrivata Ha messo malino Malino Orca boy anche dentro Ah è lui però Sì Ah metal Allora Cazzo Puttana era No qui l'hanno sbrigilato Io spero che dentro Sia tutto integro Puttana Sì non che delle scatole Perché me ne freghi molto Ma dell'interno sì Cazzo Cosa sarebbe un trasformer sempre? Questo è un Cinesata Diciamo il Rifacimento Migliorativo Mi avviso Del Masterpiece Di Starscream Sempre in ottica Aerei Fighettosi Oddio Aspetti voglio riprendere No Apro dal di qua Che voglio fare La plastica potrebbe averlo preservato Vediamo Scatola in box E' brutto E' brutto Ah era così bello Aspetta aspetta Si verificheremo No Si visto così Sembra che abbia Abbia retto Delicate Sono le spalle Le ali spalle Le ali spalle Il resto non vedo Toccherà andare a trasformarla Abbastanza in freccia Adesso si perché Si deve Verificare eventuali Rimostranze O Tentativi Di Ecco Facciamo vedere che c'è In fretta delle istruzioni E che io non l'ho perso Per adesso Per adesso Però sarà una prova sul carico Nel momento in cui scomparirà Si però lei non può badonare tutto eh Così Invece tiene Sai che lui già ha visto questo cigliaccio L'oggetto No ma questo Cigliatta Già era bello il Le sceglie Questo Adesso Chi è della Eh Famosissima Questa C'è Punta Metal Deformation Ah ok Potrebbe sembrare la Metal Dition Ma no ma questi sono loro Si è la cosa È la Wei Xiang Potrebbe essere ma non lo so Si si Lo capiremo subito Vediamo le giunture No no Guardi Guardi La verniciatura E' un effetto shading Che veramente Guarda anche qua dietro No bello Aspetta Traslucido Bello Le ali sono Non è traslucido E' pitturato Scusa Tutto pitturato No no Anche come robot Che comunque Starscream Sappiamo non essere un robot Ultra Ultra Ma qui è trasparente la cabina di pilotaggio Sì beh certo Ok Facciamo vedere la notazione Questa è una delle sue armi Ah bello Sì Ma soprattutto Il lancia la scelta C'è il mitragliatore sotto Si E gli spunzionamenti Si Quando si mette questi C'è super missili Spara di tutto Lì quando si incazza A Bambu Vi fa vedere i solci verdi Sai che mi ricorda un po' la Wei Xiang Dico una cazzata Non mi faccia ricordare In questo momento Se era Wei Xiang Black Mamba Metal qui Eccetera Di Metal Non ce n'è tantissimo Perché la Metal Dition È l'ex Wei Xiang Abbiamo recensito Quell'Optimum Può darsi che abbia ricambiato il nome Per l'ennesima volta Per Si si Può darsi Bello Sa cos'è Di lato è un po' effetto sottiletto Forse fa anche Fa anche Questa la mettiamo subito nella posa Lei però mi ha un po' veramente Questa parte C'è la gonfia Sa cos'è È un po' sottilino Da così Forse perché È Stark Ad essere così Ok Qui quando poi lo vedrà in jet Farà 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 Una bella concorrenza Al famoso Che abbiamo visto Con dimensioni Probabilmente anche più da Valkyrie Stavo per dire Magari se c'era il polistirolo Non lo so se si ammortizzava Si spriciolava Si spriciolava Non lo so Qui ha la plastica Ammortizzato Sembra che non abbia subito Sembra Adesso lo andremo a verificare Aspetti 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 Qui è un po' incurvato Anche qui No no questo è Anormale Dove essere così Ah no mi sembra Forse ho preso un piccolo La parola plastica Le fa Dove sotto c'è La ghiacci Vedremo Non possiamo Questo quindi È per l'unboxing di oggi Io ve l'avevo Credo anche segnalato Che mi intrigava Questo pezzo Credo di sì Come vedete Visto mantengo Non è che dico Compro qui compro la Non l'abbiamo pesato Lo stesso Vabbè Molte tanto Si ricordo che Si Noi ve lo recenseremo Visto che è gianto Scomalo quanto prima Non mi muoia All'urlo di Nothing shocking Proseguiamo Gli unboxing Gli unboxing Gli 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 Grazie.